Sono trascorsi 20 anni dall'inaugurazione della sede aretina dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Il prossimo 21 maggio, le celebrazioni del ventennale dell'Osservatorio Sismologico di Arezzo dell'INGV, che ha sede nell'elegante Villa Severi, un tempo residenza del matematico aretino Francesco Severi, da cui prende il nome. Nel corso degli anni, il focus delle ricerche dei ricercatori di OSCAR, l'Osservatorio Sismologico, sono stati gli studi geologici della tettonica attiva e il monitoraggio sismico delle aree geotermiche della Toscana, come referente del Centro di Monitoraggio del Sottosuolo dell'INGV, nonché l'impegno tecnico-scientifico per scopi di protezione civile. OSCAR si è prodigato anche in iniziative didattico-divulgative rivolte agli studenti per la miglior conoscenza del territorio e delle sue peculiarità geologiche. Tutti gli appuntamenti del ventennale di OSCAR verranno trasmessi in diretta streaming sul canale YouTube dell'INGV. L'evento sarà introdotto da una conferenza del presidente Carlo Doglioni sul tema della geodinamica e sismicità appenninica, con particolare riferimento alla regione toscana. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.